Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Crotone per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione. Il 39enne è stato sorpreso in casa dagli agenti della Polizia di Stato, mentre tentava di nascondere diversi involucri chiusi ermeticamente all'interno di un tubo. Gli agenti della squadra mobile e delle volanti della questura pitagorica, nel corso dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuati nel quartiere Acquabona, hanno proceduto, dopo aver notato movimenti sospetti nelle immediate vicinanze, alla perquisizione di un'abitazione. All'interno dell'immobile hanno avuto modo di recuperare le confezioni che l'uomo, finito in manette, cercava di nascondere, contenenti rispettivamente 252 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish. Nel corso del controllo è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi, assieme a due bilancini elettronici e numerosi ritagli di cellofan, oltre ad una patente di guida risultata di provenienza furtiva.